Lusconi e Renzi si incontrano solamente su un aspetto, che è quello relativo da un lato alla legge elettorale e dall'altro per l'elezione del Presidente della Repubblica, che noi tenteremo di fare in modo e in maniera, ed è il clou dei colloghi, di fare in modo e in maniera di non avere un altro Presidente della Repubblica per la terza volta di sinistra, ma avere un Presidente della Repubblica che possa rappresentare tutti gli italiani e i moderati che in questa nazione sono la maggioranza. Per tutto il resto noi siamo pesantemente all'opposizione, non abbiamo alcuna intenzione, come è stato scritto, di andare al governo con Renzi. Quindi con Renzi però ha un accordo solamente sul nome del prossimo Presidente? Ammesso e non concesso che Renzi mantenga i patti è ovviamente sul nome del Presidente. Se questo non avverrà, anche la stessa legge elettorale che oggi è al primo passaggio al Senato e poi deve andare alla Camera e quindi il pacchetto delle riforme istituzionali che deve ritornare al Senato, anche su quello ovviamente, che è l'unico argomento sul quale si dialoga con Renzi, evidentemente ci vedrà assumere una posizione di opposizione.